molto bene siamo con il mio ciuppetto valdagnese ciao Giuliano hai avuto un anno di ti ho dato un anno di tempo per imparare un po' di italiano intanto approfittiamo per salutare alla mamma lo dobbiamo fare qualche volta l'entrevista meglio l'ultima partita dell'anno l'ultima partita della stagione regolare tu come hai visto come hai visto questo pareggio un pareggio tutto sommato alla fine diceva anche romeo danna un pareggio che accontenta tutti e due o non accontenta nessuno però è sempre un punto abbiamo giocato bene penso io abbiamo sbagliato alla fine adesso dobbiamo pensare nella partita del mercoledì per entrare il playoff quindi già con la testa ai ai preliminari di playoff naturalmente noi facciamo sempre conto sul nostro ciuppete ti abbiamo visto bene stasera anche con la stampa abbiamo detto sicuramente un ottimo punteggio in pagella per te questa sera è un grande in bocca al lupo per il proseguo della stagione mi raccomando portiamola a casa vediamo se la prossima partita facciamo gol e portiamo la partita a casa molto bene questo era il nostro argentino il ciuppete valdegneso Giuliano Giuliani ciao grazie